Bentornati! In questo tutorial vi mostreremo le tonalità e l'applicazione dei nostri matitoni correttivi. Sono disponibili in quattro colorazioni, in funzione delle diverse imperfezioni cromatiche. Verde, per nascondere discromie rosse. Arancio, per macchie scure, come le occhiaie. Lilla, per ravvivare gli incarnati spenti, come le pelle olivastre. Da utilizzare in combinazione con il correttore fluido Sublimi. Giallo, per illuminare ogni tipo di incarnato o per effettuare un contouring d'effetto. La consistenza è morbida, grazie agli oli vegetali contenuti, e quindi sono facilmente sfumabili. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!